cari amici vi leggo un post che hanno appena pubblicato caro marco cosmo condivido tutto ciò che hai scritto ma credimi sarebbe meglio che questa battaglia che stai conducendo tu la facessi diventando cristiano cattolico come siamo noi e non solo provocandoci cosa che non mi è chiara fino in fondo convertiti e sarai senz'altro più credibile oltre che salvo nell'aldilà perché io sono destinato all'inferno non c'è niente da fare non c'è niente da fare ho fatto un'intervista per aiutare don minutella che ha superato le 15.000 visualizzazioni ho contattato padre alex ho fatto un'intervista con lui per cercare di fare uscire la verità padre alex poi ha rilasciato un'intervista ad aldo mariavalli adesso don minutella sta facendo su radio domina nostra le interviste a fra alex e li ho messi in contatto io li ho fatti conoscere io ma quanto pare tutto questo non basta e no poi ci sono stati gli attacchi di ortolani gli ho risposto io gli attacchi adesso dell'osservatore romano di giovanni gennari e gli ho risposto io mi sono preso io la briga di fare questo e ancora arriva il cattolico che dice tutto inutile quello che fai perché non sei cattolico eccolo il buddha ho detto 3000 volte non sono buddista me l'ha regalato una mia amica se mi avesse regalato una statua di napoleone e non è che sarei stato napoleonico non c'è verso perché purtroppo la gran parte dei cattolici è veramente molto molto limitata ancora c'è chi mi dice non metti la faccia ancora chi sta lì a dirmi convertiti perché se no tutto quello che farai se non credi in gesù è inutile e andrai all'inferno sapete che vi dico fate come vi pare io adesso avevo un'idea per sferrare un attacco collettivo sul piano nazionale coordinandoci fatevelo da soli perché mi avete veramente stufato fatevelo da soli mi avete veramente stufato e quindi in bocca al lupo che vi devo dire il buddha non lo tolgo quest'altro qui che scrive stupido sarebbe meglio che questa battaglia che stai conducendo la facessi diventando cristiano cattolico questo è come il supermercato no ma perché non diventi cristiano cattolico no perché non compri i fagioli borlotti invece che fagioli spagna questo è il livello e non me ne libererò più dovete ammettere che ho dedicato molto tempo alla battaglia per farvi capire che questa era una falsa chiesa guidata da un falso papa mi piace questo e tenetevelo da domani cambierò tono il cambierò anche il video cambierò video cambierò argomenti e vi piace la pace a mamma e tenetevelo addio